Rocco Marcucci, 1980 la nascita di Runners Chieti, sono passati 40 anni. Allora la squadra è nata nel 1979, fine anno 79, nell'80 poi abbiamo fatto l'affiliazione alla FIDAL e siamo andati avanti così per tanti anni. Ma perché? Perché io ogni volta che devo riorganizzare, che finisce un anno, che bisogna rifare la squadra, bisogna ritrovare gli sponsor, mi ridà una carica di gioventù. È molto lavorato, è un impegno, però è questa adrenalina che si crea, mi aiuta a vivere e a rimanere più giovane rispetto alle persone della mia stessa età. Siete la squadra più numerosa d'Abruzzo da tanti anni. Noi puntiamo molto più al numero che alla qualità, francamente. Forse può anche essere una cosa che da alcuni non può piacere. Però se la squadra è a materiale, noi abbiamo sempre questo intento di promuovere lo sport, di portare gente nuove a correre e unire un po' di sport, cultura, viaggiare, perché noi viaggiamo tantissimo. Ci viene in mente la famosa Strateate, che è una grande gara che avete ideato voi e negli ultimi anni avete inventato la Strateaterno, questo cross country. È una specie di gioco di parole, perché la Strateate era rimasta nel cuore di tanta gente. Questo è il lago Teaterno, Strateaterno, per cui è un gioco di tre ore, di parole. Adesso sto cercando un altro gioco di parole perché a maggio faremo una tre ore in occasione dei festeggiamenti della festa patronale, faremo una tre ore di notte, cioè da mezzanotte alle tre ore, per cui Strateate tre ore, notte, non so, TR da mischiare. Ci faremo venire in mente qualcosa.